Ciao Lucio, benvenuto su 20, grazie per essere qui. Grazie a voi. Come stai? Bene, bene. Sono contento. La tua bio recita che nel 2012 sconfiggi la matematica. La bio ha cambiata, è troppo... Però... Bella, bella, mi piace. Mi ha colpito. Che studenteri, che adolescenteri? Allora, volevo... Cioè, da piccolo disegnavo, infatti i miei dicevano vai all'artistico, tipo così. Io no, voglio andare allo scientifico perché si impara di più. Da bambino? Sì, sì. Però, tipo, quella scuola lì, lo scientifico, è stato, secondo me, molto utile. Perché ero, tipo, l'unico che suonava, che aveva altri interessi, no? In una classe di ragazzi con altre cose per la testa, altri interessi. E questa cosa mi ha insegnato una cosa, ovvero che si può essere amici e trovare affinità anche con gente, con persone che hanno, no? Che fanno cose diverse da te, che vivono in modo diverso, che proprio... E uno dei miei più cari amici è proprio il mio compagno di banco del liceo, che non ha niente a che vedere con la musica, capito? Cioè, fa proprio altre cose, però ci lega comunque a una grande amicizia. E questo è bello da scoprire. Cioè, la scuola a me ha insegnato questo. Penso sia... Penso sia buono e sufficiente. Nel 2017 a un certo punto ti ho visto in questa campagna pubblicitaria dei Gucci. E chiaramente mi ha incuriosito, perché la maremma, la vita e invece l'alta moda... Come stanno insieme questi mondi? Allora, ti dico sempre una cosa, che spesso dopo quella cosa lì mi viene chiesto qualcosa inerente alla moda, alle cose... Io rispondo sempre che... Che la moda... Della moda a me non me ne frega niente. Assolutamente. Proprio zero. Quello lì è stato bello, è stata un'esperienza fichissima, perché coincidevano un gusto, una passione anche. Io in adolescenza, iniziando a suonare, indagando, cercando, mi sono affezionato e mi sono appassionato a un certo tipo di musica e di storie, di musica degli anni 70, da prima Peter Gabriel, con i Genesis, poi da lì al Glam Rock, di Bowie, Roxy Music, Brian Eno, perciò T-Rex, e ho sviluppato un gusto per un certo tipo di estetica e di musica, molto unite tra loro, in quel caso. Perciò io già avevo passione per quel tipo di estetica, non per la moda, cioè non mai cambiato rispetto alla moda è una roba che cambia e invece sono affezionato a quelle cose lì, mi piacciono quelle cose lì e in quel caso lì Gucci aveva dei riferimenti molto stretti con quel mondo lì, con Elton John, con il Glam Rock di quegli anni, perciò è stato perfetto, è stato bellissimo, giusto e è una grande esperienza. Tra l'altro mi hanno fatto fare delle foto da Mick Rock in una campagna insieme a Francesco Bianconi, è stato un sogno, cioè io in terza superiore a Berlino avevo comprato questo libro in tedesco di foto di Mick Rock a Bowie e era la B, cioè io sono cresciuto guardando quelle foto lì, le sue, le copertine di Iggy Pop, di Lou Reed, cioè un sogno, perciò è stata proprio una roba meravigliosa, però sì, della moda in sé non me ne frega niente. Però anche l'immaginario visivo nella tua musica è molto importante? Certo, certo. È stato così sempre? Perché è uno strumento in più per raccontare un disco, per raccontare un'idea, come la copertina, come i video, come il... a me dà energia, dà voglia di fare, non pensare solo alle canzoni, ma pensare a tutto, l'insieme. E ovviamente anche il lato estetico, è una cosa da sfruttare, è una cosa da... ti ci puoi sbizzarrire, può essere tutto più interessante, se curi anche quel lato lì. In cui è importante anche Tommaso Ottomani. Sì, Ottomani, sì. Sì, con lui da anni facciamo la roba insieme, ci divertiamo a inventarci video. Video pazzeschi, bellissimo. Beh, raccontando lui, è bravissimo. E questo disco abbiamo proprio prodotto insieme anche, arrangiato insieme, alcune canzoni scritte in due. Com'è scrivere una canzone con qualcun altro? Immagino una canzone per un artista come te sia una cosa, un fatto molto personale. Sì, sì. E anche proprio di processo. Sì. Io neanche le interviste vorrei scrivere con lei? Sì, sì. Ma infatti io ho scritto tre canzoni con qualcun altro e con lui, basta. Perché siamo molto affiatati, siamo due fratelli in quello. Perciò l'unica volta che ci sono riuscito è stata con lui così. Però è stato bello. Poi abbiamo trovato un buon punto, secondo me, di incontro tra le nostre due idee di musica. Lui è molto più pop come impronta nella scrittura. È stato sempre così. Fin da ragazzino lui suonava all'inizio. e io invece tendo per altre cose, più per i testi, per... E abbiamo trovato, secondo me, un bel punto di incontro. È stimolante perché comunque lui mi tira da una partita o dall'altra. Litighiamo un sacco, ma come... nella maniera migliore possibile. Nel senso che non abbiamo filtri, no? Quando una cosa non ci piace ce la diciamo subito. Questa è una merda. e c'è anche competizione che è utile, secondo me. Tipo Radio May Day l'abbiamo iniziata una sera così a casa sua cantando cose a caso su quel giro di accordi e l'abbiamo chiusa la stessa sera. Cioè, c'era una chitarra sola in casa perciò no, dammi qua, no, no, dammi qua perché ognuno voleva scrivere la parte dopo prima dell'altro. È fico, divertente. Cioè, tu hai un gusto molto specifico passando anche per il 2017 che comunque hai fatto questa cosa con Gucci. Come è stato percepito nel tempo dagli altri il tuo gusto? È cambiato il modo in cui le persone diciamo apprezzato? Spero di sì. Cioè, se non fosse cambiato sarebbe negativa come cosa. Perciò spero con tutto il mio cuore che sia cambiato ma non perché non sono contento di quello che ho fatto prima ma perché penso che la cosa a cui bisogna tendere nelle forme di espressioni sia il cambiamento che è la cosa più difficile però più bella più entusiasmante più perciò non vorrei mai adagiarmi su una cosa che ho fatto e ripetermi. Sarebbe un fallimento in qualche modo cioè bisogna cercare di stravolgere le cose anche per continuare a avere quel brio di quella frizzantezza nello scrivere nel mettersi lì a sviluppare un'idea perciò spero sia cambiata l'opinione da disco a disco come sono cambiato spero io cerco di farlo. I titoli dei tuoi dischi ci sembrano un po' scandire dei capitoli della vita e quindi volevo chiederti la gente che sogna che è il titolo del tuo nuovo album che periodo è che periodo rappresenta nella tua vita anche alla luce forse non lo so se per te è una cosa del fatto che questo è il tuo anno dei 30 ancora no non li ho fatti ci tengo a questa cosa ottobre ottobre ho visto che periodo rappresenta e l'ho scritto in un periodo per tutti strano e un po' oscuro cioè dalla primavera perduta del 2020 e io ero partito con il tour del disco precedente cosa faremo da grandi dopo due date è arrivato la pandemia è saltato tutto allora mi sono trovato per fortuna in Maremma dove sono nato e cresciuto lo studio ha gli strumenti lì perciò è stata una fortuna rispetto a tanti altri che erano in città era sicuramente più difficile quel momento e mi sono messo a scrivere ho detto vabbè rendiamo questo periodo di stop utile per me e ti sei isolato ancora di più in un certo senso perché sei anche sparito da internet sì sì in un momento in cui magari avrei dovuto farmi vedere il più possibile perché comunque era appena uscito un disco però secondo me questa è secondo me la cosa che ho pensato e che ho notato è che ci sono dei momenti in cui stare se ne zitti è una delle migliori cose che si possono fare invece ho visto tante persone che hanno avuto proprio l'esigenza in quel momento di cantare comunque di farsi vedere di essere presenti di urlare qualcosa invece penso che era proprio un bel momento per starsene in silenzio è un grande valore il silenzio oggi è un grande valore ma non viene tanto considerato come un valore cioè non viene considerato in maniera nella giusta maniera viene visto molto negativamente invece secondo me la cosa più bella che si può imparare anche dalla musica è quanto siano bravi gli strumenti a starsene zitti vedete cioè se non si toccano perciò magari se si imparasse quello dagli strumenti sarebbe un'ottima cosa ultimamente parlavo con una persona che lavora in tv e mi diceva che quelli che fanno radio sono più bravi di tutti perché per loro il silenzio devo stare zitti è come il nero televisivo e lui lo diceva in chiave positiva io pensavo in termine madonna siamo tutti in un gigantesco programma radio abbiamo un'angoscia devastante del nero e mi ha colpito io tanto proprio in musica è bellissimo tipo cioè i silenzi nelle canzoni sono sono è uno strumento importantissimo la pausa nella musica è è utile proprio è a volte risolve dei problemi di composizione e sì paura del silenzio dell'oscurità del buio anche no cioè anche in questo disco c'è quelle riflessioni intorno a questa a questa cosa cioè cercare di farlo diventare un foglio bianco in qualche modo un qualcosa che copre il mondo che conosciamo ci dà l'opportunità di cercare di cambiare qualcosa di ridisegnare un po' le forme che ci circondano così in questo disco tu lo hai accompagnato con una scheda di presentazione bellissimo e io dentro di me ho pensato sarebbe bello che fosse obbligatorio per gli artisti fare questa cosa poi ci ho pensato bene e ho detto meglio se lo fa solo luce meglio se lo fa chi ha voglia di farlo e chi è capace di farlo poi dipende sì anche perché a volte tanti giustamente dicono che non servono altre parole per spiegare le loro parole già è vero ma io sono un appassionato di generosità più ce ne sono più sono contento comunque sì mi è stato detto tipo anche live spesso dal vivo introduco le canzoni raccontandole mi è stato detto non lo fare perché poi non ha senso che tu le canti dopo cioè le hai già raccontate cioè che senso però mi piace farlo perché voglio che si capiscano nel modo giusto per quel niente che vale io sono fan magari ci aggiungo anche cose che sono rimaste fuori dal testo che però trovo giuste da dire da aggiungere poi mi piace pensarli come quasi con degli attori che recitano dentro cioè chi c'è in questo disco che recita e allora in questo caso in questo disco qua c'è la luna che è questo lampione il lampione più la forma di lampione più grande esistente al mondo che cerca di cambiare chi la guarda poi c'è la realtà e l'immaginazione questo personaggio immagino come un personaggio doppio in conflitto con se stesso in una lotta interiore poi c'è il sonno che è un trasporto pubblico verso luoghi sconosciuti cuscini e materassi che ci trasportano verso altri luoghi altri tempi altri panni altri due attori non protagonisti ma in realtà forse non dici tu sono protagonisti o meno sono la notte indietro come elemento che tra l'altro richiama un po' l'oscurità anche il silenzio e la casa astronave ah sì se ci pensi sì le case sono una specie di astronavi piantate nel terreno hanno tutte le cose che hanno le astronavi hanno i finestrini per guardare fuori i sedili gli interruttori i cavi le luci e tutto quanto chi ha una casa ha le chiavi di questa astronave ma non siamo in grado di farle partire anche con qualsiasi combinazione di interruttori di chiavi di manopole ancora nessuna casa è volata no è interessante perché tu eri stavi partendo con un progetto che si chiamava cosa faremo da grandi e sei trovato a un certo punto un po' confinato nella casa astronave sì sì che è una dimensione anche molto fanciullesca molto giocosa tempo fa uno scrittore di poesie per bambini mi disse che le canzoni cioè fai canzoni per bambini ovvero per tutti questa cosa mi piace un sacco è uno dei complimenti a cui che ripensandoci mi ha fatto più piacere insomma che mi porto dietro e che ci penso ogni tanto è proprio secondo me una giusta affermazione secondo me quella cosa che dicevi prima che hai scritto che la luna è il lampione più grande del mondo evidenzia molto bene come tu abbia degli elementi cioè hai vissuto vicino alla natura in un modo che noi cittadini si si vede di più in campagna sicuramente hai interiorizzato tutta una serie di cose in modo diverso da noi quindi ti volevo chiedere che rapporto hai con la natura e che rapporto ha la natura con te in un certo senso per me il lampione più grande del mondo è il cartellone genialloidi in piazza di Moreto esatto con l'orario che è stata per una cosa gialla per tanti anni che era sopra sta piazza era per contaminare un po' lo scenario sì sì un polico poi ognuno vivendo nei vari luoghi si crea le proprie figure attorno e di sicuro il cielo si vede molto di più in campagna senza luci perciò è un elemento che c'è sempre stato e perciò sono abituato a a pensarci a a averci a che fare come con gli alberi intorno che non si muovono da una vita da lì si muovono ma molto meno di noi sono un po' sezionato dalle cose ferme tipo le statue gli alberi sono delle statue in qualche modo anche gli alberi però non sono travestiti da nessuno pensavo che c'è grande tradizione di cantautori toscani Piero Ciampi c'è Bianconio c'è stata una scuola se vogliamo questa scuola poi si è confrontata spesso poi anche con la dimensione invece la città come è stato per te arrivare in un posto come Milano e passarci anche il tempo a me non piace la città in generale non Milano ma per questione di abitudine sono dipendente da quella tranquillità e da quella pace che c'è in campagna e preferisco il bel panorama e zero eventi intorno a me rispetto a fare tante cose in città vedere le persone cioè da un po' fastidio dal casino eccetera io sono abituato in quel modo perciò non è Milano che soffro e la città in generale preferisco la vita in pace così cioè il fatto di crescere in provincia secondo me in campagna così comunque in luoghi dove non ci sono cose da fare quello è utile secondo me perché uno i miei me lo dicevano sempre devi imparare a annoiarti ecco bravo volevo chiederti proprio se hai a che fare con la noia questa cosa che stavi dicendo esatto hai centrato perché è una cosa da imparare a fare cioè bisogna lo dicevano sempre me e c'hanno ragione la mia famiglia mi diceva sta cosa che devi imparare a annoiarti perché nella vita c'è anche quello e va affrontato e va saputo c'è? oggi ancora secondo me tipo oggi puoi non annoiarti mai se vuoi questo è un disastro io non sono più capace sì sì invece è proprio utile perché tanto fa parte della nostra esistenza quel lato lì perciò è legato strettamente alla musica alle passioni in generale perché poi ti ingegni per io ho stato giorni interi quando ero più piccolo lì in campagna da solo perché se non mi portavano i miei in città non potevo andarci perché non avevo ancora la macchina da piccolo suonavo passavo giorni e giorni a suonare ho iniziato così la passione per la musica è nata così a proposito della tua famiglia una cosa che abbiamo letto che ci ha colpito è che tua nonna gestisce un ristorante in una piccola provincia vicino a Grosset Macchia Scandona Macchia Scandona sì dal 59 com'è la tua famiglia e come hanno interagito con il fatto che a un certo punto tu volevi fare il musicista ma anche come si magna tutto sommato come cucina la nonna quando ci invici soprattutto tortelli fatti a mano dagli anni dal 60 ad oggi e mia nonna c'aveva otto sorelle e lavoravano tutte lì al ristorante tutta una roba la sua figura secondo me è di grande insegnamento cioè proprio sulla dedizione a un lavoro ogni tanto ci penso è correlata anche alla mia passione per la musica quanto ci sto e quanto mi piace farlo e mi ci dedico è un bel insegnamento bisogna far così bisogna da quando ho iniziato a voler fare questa cosa quando hanno visto che lo volevo fare seriamente mi hanno appoggiato infatti è comunque una gran fortuna avere una famiglia che ti appoggia in questo quando vedono insomma quando hanno visto che lo volevo fare davvero e seriamente e poi una cosa della quale li ringrazio e penso sia una cosa bellissima è il fatto che siano stati sempre comunque al di fuori di questa cosa cioè un altro insegnamento bello ripensandoci è quando cioè mi hanno sempre detto sapete voi come dovete fare le cose perché siete voi i giovani cioè quando ero più piccolo eccetera questo è un distacco secondo me sacrosanto e raro cioè il fatto che un adulto comunque dica fate voi perché e non ci voglia mettere bocca perché capisce di essere di un'altra generazione e che il mondo è cambiato e che un giovane sa meglio di lui quel che deve fare in quel momento io sono stato veramente colpito dal tuo album e quindi ho fatto praticamente non è più un'intervista adesso è una sorta di indagine su alcuni versi che mi sono piaciuti e che quindi ho scelto di ho detto vieni qua ne approfitto l'ispettore è un po' sì con la mia cartellina dire senti ma una frase che mi piace che canti nella gente che sogna è che è necessario un incubo per svegliarsi con sollievo chiaramente io dire wow ciao oddio incredibile l'album è permeato dal tema del sogno dell'unirico della notte hai dei sogni ricorrenti? io che cado dalle scale cadere al rallentatore un altro bellissimo verso bellissimo in danza classica è sono anni che nessuno mi trasforma in qualcos'altro un po' anche sulla questione di prima cioè sullo sperare di cambiare è l'amore che ci trasforma in qualcos'altro? no non lo so non credo non credo solo quello ok cioè magari può essere anche quello ma può essere mille cose la cosa mi piace in entrambi questi versi è che riconoscono un bisogno di negatività nel senso che cioè comunque tendiamo a vivere tutta la vita con la rimozione di quello che non vorremmo cioè anche un senso di fare cose per il nostro benessere stare sempre meglio invece il fatto che un incubo sia necessario mi piace moltissimo cioè è così come mi senti mi sento un po' professore al liceo che tipo valuta un tema ma è che è che veramente cioè nessuno dice quanto sia bello anche confrontarsi con le parti più oscure invece in questo album qua questa cosa c'è mi pare bene bene mi fa piacere prof esatto allora una cosa che mi è piaciuta tanto è cosa faremo da grandi neanche da vecchi si sa cosa faremo da grandi noi qui siamo in un posto che si chiama 20 dove parliamo con persone che sono in quel lasso di tempo tra i 20 e i 30 più o meno e quindi ci chiediamo spesso tipo chi saremo da grandi siamo già grandi che cosa vuol dire diventare grandi e quindi tu non hai ancora capito che cosa ci sarei da grande quella canzone intende proprio il fatto che che non ci debba essere risposta a questa domanda cioè la cosa migliore sarebbe che non ci fosse una risposta un'altra cosa questo deriva sempre da come sono stato cresciuto dai miei eccetera cioè mi hanno passato il concetto che non si debba per forza vincere qualcosa non si debba per forza diventare qualcuno oppure aver successo in qualcosa cioè ci sono vari modi di vivere e cioè non si deve tendere per forza al successo e al raggiungimento di qualche obiettivo cioè si può fare anche tante cose cambiare smontare tutto ripartire e trovare un modo comunque bello di farsi la propria vita ma senza tendere per forza al successo è molto importante io l'ho capito molto tardi e secondo me il contesto storico che viviamo non aiuta le persone a sentirsi così come dici sì sì è vero certo però anzi è più stimolante cercare di farlo in questo in questo casino assolutamente assolutamente cosa fai nel tuo tempo libero? mi piacciono i documentari sulla seconda guerra mondiale ok è molto specifico io ne ho visto uno recentemente tipo sei puntate rifatte a colori eh quelle robe a me mi piacciono tantissimo oppure gioco a giochi di gare di corse ah ok 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 wow video games immaginavo con tenuta la corsa come podista no no sono appassionato di di gare di auto e di moto ah le guardi quindi anche? certo anche l'unica passione al di fuori della moto ma dai MotoGP Formula 1 MotoGP soprattutto fin da bambino troppo etico sei un fan di Valentino dell'epoca Valentino Rosso e di tutti i nuovi dell'academy di tutti ma dai quindi sei qui anche adesso ma seguo le categorie minori dalla Moto3 Moto2 MotoGP proprio super fan trovo bello poetico cioè c'è una sfida contro il tempo che se ci pensate è bellissima e inutile però a me le cose inutili mi affascinano come chi scala le montagne cioè penso siano o chi fa il giro del mondo in barca a vela tipo Fogart cioè sono cose inutili ma poetiche a un livello altissimo proprio e anche per personali di chi le fa no è bello e poi le moto si sono un corpo umano sotto cioè di viti bulloni esplosioni interco il cuore il pistone cioè la benzina cioè come un essere umano ricreato no perciò è affascinante è una passione che condividevi in famiglia mio padre me l'ha passata fin da bambino sì sì guardavamo le gare riconosco questa sì è un classico noi non ti abbiamo ancora visto live ma ci hanno detto grandissime cose allora magari vuoi dirci qualcosa tornerai live sì sì da giugno da metà giugno dal 17 vicino Perugia e poi fino a settembre poi forse continuiamo anche in autunno vediamo non vedo l'ora poi io dal vivo siamo in sette sul palco sono i ragazzi con cui suono da quando ero a liceo e perciò è proprio bello ci dà gusto da morire poi il live è pieno c'è tre chitarre elettriche slide guitar armoniche blues folk rock and roll c'è un po' di tutto due ore un quarto due ore e mezzo di live è proprio fico non vediamo l'ora di ripartire mi sembra che sia proprio una festa questa cosa io approfitto per fare un'ultimissima domanda che è che è una domanda che mi incuriosisce l'hanno fatta altra sera a Fran Leboviz al teatro che è quale è stata la festa più bella a cui sei mai stata wow quindi la giro a te strano io non sono un grande frequentatore di feste la tua festa ideale è vale anche stare a vedere una festa piccola nel modo di officio esatto sì sì c'è una canzone bellissima di Randy Newman che parla di questa festa e di lui che interpreta questo personaggio questo ragazzo che si trova a questa festa e dice mia madre mi aveva detto di non venire a questa festa cioè aprite la finestra fate uscire il fumo lui che si lamenta di quello che succede cioè dalla prospettiva di questo ragazzo un po' impacciato e sfigato tipo così Randy Newman è un maestro nel creare cioè nel far film in musica praticamente sentitevela non mi ricordo il titolo però se cercate la trovate recupereremo noi ti salutiamo e abbiamo come regalo per te il fatto di regalare un libro grazie proprio in tema liceale oggi abbiamo scelto Eugenio Montale il libro è Satura è una raccolta di poesie e chiaramente abbiamo pensato di ricartelo perché a Lucio che non crede che la realtà sia solo quella che si vede perché insomma questo album lo racconta molto bellissimo grazie mille grazie davvero grazie a voi